Candidano quindi Prodi, detto due di picche, che dice abbiamo firmato un programma, qualsiasi domanda gli facciano, lui risponde abbiamo firmato un programma, Prodi ma Ipax sei favorevole o sei contrario? Abbiamo firmato un programma, il concordato, sapete che vogliono abolire il concordato, sei favorevole o contrario all'abolizione del concordato? Sono assolutamente convinto che abbiamo firmato un programma, i BOT abbiamo firmato un programma, i CCT abbiamo firmato un programma, la Patrimoniale abbiamo firmato un programma, la TAV abbiamo firmato un programma, come ti chiami? Abbiamo firmato un programma, abbiamo firmato un programma, risponde sempre abbiamo firmato un programma, ma nessuno sa di che tratta questo programma, fumo da vendere agli elettori, poi si vedrà quando si andrà a governare. Per fortuna un appello ce l'ha fatto il Papa, importante, importante, Ipax, no, Emma Bonino scordate Ipax, perché se si fanno Ipax qua succede una rivoluzione e voglio vedere come ve la mettete.